Bentornati al nostro appuntamento su Rete8. Chi ha seguito le precedenti puntate sa che in Abruzzo c'è una realtà particolare, il Polo Nazionale dell'Arma dei Carabinieri. Polo che dal 2017 ha centrato sulla sede di Chieti tutte le domande di pensione dei Carabinieri d'Italia. Quindi qualunque Carabinieri che prezzi servizio in Sicilia o in Trentino avrà la prima liquidazione della pensione liquidata dal Polo Nazionale di Chieti per poi avere tutte le fasi successive gestite anche per un contatto diretto presso la sede provinciale di competenza, cioè quella di residenza. Questa sperimentazione, questo primo Polo è stato seguito nel mese di luglio dalla firma di due ulteriori convenzioni. Il primo firmato con la Guardia di Finanza che istituisce nel Lazio il Polo Nazionale della Guardia di Finanza. Il secondo firmato dal Presidente dell'Istituto e dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito che istituisce presso la direzione provinciale di Chieti un secondo Polo Nazionale, appunto il Polo Nazionale dell'Esercito. Come vediamo nelle slide, il Polo Nazionale dell'Esercito sarà operativo dal 1 novembre 2019 e la funzione sarà appunto quella che dicevamo prima di accentrare presso la direzione provinciale di Chieti tutte le prestazioni di tutti i militari dell'Esercito a prescindere dal luogo in cui prestino servizio. Quindi i militari del Friuli piuttosto che i militari della Calabria avranno comunque la liquidazione delle loro prestazioni presso il Polo Nazionale dell'Esercito. Vediamo di quali prestazioni si tratta. In primo luogo le posizioni assicurative. L'attività di alimentazione delle posizioni assicurative del dipendente pubblico va avanti da parte dell'Istituto già da diversi anni. Il Polo Nazionale dell'Arma di Carabinieri ha già alimentato tutte le posizioni fino ai nati all'inizio degli anni 70. La stessa attività verrà fatta anche per il Polo Nazionale dell'Esercito, quindi verranno alimentate le posizioni dei militari secondo una tempistica concordata tra l'Inps e il Centro Nazionale dell'Esercito italiano. Poi la liquidazione delle pensioni, il presupposto per liquidare le pensioni è quello di avere una posizione assicurativa completa, quindi presso il Polo Nazionale viene liquidata la prima rata di pensione, nonché tutta l'indennità di buonoscita, tutte le rate dell'indennità di buonoscita, il TFS, ripeto di nuovo per tutti i militari d'Italia. E poi le procedure di riscatto e ricongenzione che alimentano nuovamente la posizione assicurativa. L'ultima prestazione che viene polarizzata è quella della concessione dei prestiti. Noi abbiamo diverse tipologie di prestiti che sono finanziate direttamente dai dipendenti pubblici con un prievo aggiuntivo sullo stipendio che finanzia un fondo con cui vengono concessi prestiti a tassi agevolati contrattenuta sullo stipendio, quindi anche questi richiesti da tutti i militari d'Italia verranno definite da Polo Nazionale dell'Esercito. Un ulteriore passaggio che è stato reso possibile grazie alle nuove assunzioni che ha fatto l'Istituto e quindi hanno visto rafforzata la sede di Chieti che quindi potrà costituire senza pregiudizio per le prestazioni dei cittadini questo ulteriore Polo. Vi ringrazio e arrivederci alla prossima puntata. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.